Continua l'emorragia di imprese giovanili in Emilia Romagna. In un anno hanno chiuso i battenti 1.297 unità, meno 3,8%, contro il lieve calo, 0,4% delle altre aziende. Alla base della contrazione ancora gli effetti della crisi economica, ma anche la restrizione del credito continua a pesare. A fine 2016 le imprese attive guidate da giovani sono risultate 32.694, ovvero l'8% del totale regionale. Questo emerge dai dati elaborati dal Centro Studi e Ricerche di Union Camere Emilia Romagna. La situazione è simile nella maggior parte del territorio italiano. I giovani imprenditori si fanno largo solo in Basilicata Molise in Sardegna. La riduzione delle imprese è da attribuire principalmente alla flessione delle ditte individuali. Per quanto riguarda i settori, prosegue il pesante crollo delle costruzioni, meno 906 unità, meno 11%, a cui si aggiungono la rapida caduta delle imprese e dell'industria e la flessione di quelle del commercio, meno 3%. L'unica nota positiva proviene dall'agricoltura, con un aumento delle imprese guidate da ragazzi, che sfiora il 6%, segno di un processo di rinnovo generazionale che funziona e dello sviluppo di forme di autoimpiego. Grazie. Grazie.